GF VIP7, Ivana Mrazova e la possibilità di un ritorno a fiamma con Luca Onestini, io con lui sto bene. Poche settimane fa sono entrati nella casa del grande fratello VIP7 tre ex fidanzati. Compresa Ivana Mrazova, che con Luca Onestini è stata legata fino ad un anno e mezzo fa. Dal suo ingresso, è stata sotto gli occhi di tutti la ritrovata complicità tra la modella e l'ex tronista. Tant'è che il conduttore Alfonso Signorini ha cercato più volte di farli confrontare per superare gli errori del passato. Lo sviluppo del rapporto tra Ivana e Luca, che si sono innamorati proprio tra le mura della casa di Cinecittà, è fonte di discussione anche tra i vipponi. Durante una chiacchierata in cortiletto, video integrale, Oriana Marzoli ha invitato i due a riprovare a costruire il rapporto sentimentale che un tempo li legava. L'influencer venezuelana è apparsa particolarmente interessata a capire se la modella prenderà una decisione entro la fine del programma. Ivana, però, ha ribadito. Di contro, per Oriana, impulsiva di natura, se c'è un sentimento bisogna buttarsi senza pensarci troppo e viversi la storia con naturalezza e spontaneità. Tuttavia, come le fanno notare Edoardo Tavassi e Milena Miconi, non tutti sono come così e magari la spagnola dovrebbe essere più razionale. Secondo Luca, invece, non si tratta di distinzione tra razionalità e impulsività. Ha quindi spiegato. Rispondendo a Doriana, che ha fatto notare come gli utenti del web siano desiderosi di rivederli insieme, Ivana ha concluso. Grazie. Grazie. Grazie.